Dopo le immagini raccolti da Animal Equality, i clienti della Zema SRL sembrano essere diminuiti. Davanti al mattatoio con sede a Salvirola in provincia di Cremona, che con i suoi maltrattamenti su animali e finito sotto i riflettori di tutta la nazione, si sono radunate le iene vegane per una protesta silenziosa e pacifica con striscioni e tanta voglia di giustizia. Dov'è il benessere animali nelle scene che sono state viste? Sono degne di un film horror, semplicemente. Quello che avviene nei mattatoi sono animali che vengono sgozzati in maniera cosciente, animali pieni di ferite, animali con fratture che vengono scaricati in questa maniera e violenze gratuite sugli stessi, cosa che avviene anche negli allevamenti. Il nostro è un presidio pacifico perché noi non crediamo nella violenza, crediamo che quest'ultima possa essere controproducente alla causa. Sicuramente se in futuro dovessimo fare ulteriori presidi, probabilmente qualcuno di pentito che ha voglia di raccontare l'esperienza degli animali qua dentro, terribile, e di dare ulteriore visibilità a quello che succede, noi accoglieremo e faremo un'intervista come abbiamo già fatto. Non sono passati i camion perché da quello che abbiamo saputo hanno perso dei clienti e la cosa per noi è una cosa ottima perché se fosse così per tutti i mattatoi sarebbe sicuramente un mondo migliore. E poi perché probabilmente sono venuti a conoscenza del fatto che ci siano abbastanza manifestazioni fuori da questi mattatoi, quindi hanno avvisato i trasportatori ed hanno dirottato quest'ultima ad un altro orario. Nel macello Zema sono 3.000 i maiali uccisi ogni settimana per un totale di 150.000 maiali all'anno. L'inchiesta condotta da Animal Equality raccoglie immagini forti in cui sono mostrati atti di efferratezza compiuti su maiali all'interno dell'impianto di macellazione e il mancato rispetto delle norme minime di benessere per l'animale. La speranza che questa non sia la quotidianità dei mattatoi si spegne dopo ogni segnalazione.